Si ferma a sé la striscia di vittorie consecutive del San Nicolò. A Montegranaro la Folgore impone l'alta alla squadra abruzzese che perde contatto con la vetta della classifica. Il match inizia con due minuti di ritardo per problemi ad una delle due porte. Epifani schiera un 4-3-2-1, Zaini risponde con un 4-3-3. Subito pericolosa la Folgore con Padovani che si beve la difesa avversaria e a tu per tu con calore spedisce fuori. Insiste la Folgore che si fa vedere prima con Nazziconi, poi con Pedalino che al 12esimo tenta il tiro dalla distanza. Primo quarto di primo tempo sicuramente tutto a favore dei padroni di casa che impegnano ripetutamente calore. Al 22esimo si vede il San Nicolò con Petronio ma sono sempre vere grenzi a spingere. Al 34esimo punizione per il San Nicolò, traiettoria velenosa di Merlonghi ma Marani si supera. Altro miracolo di Marani su un secondo tiro di Merlonghi che costringe all'uscita in tuffo il portiere di casa. Un minuto dopo al 37esimo l'arbitro vede un fallo in aria su Brighi, fiscale il rigore in favore del San Nicolò espellendo Giallo Nardo per doppia munizione. Sul dischetto Margarita ha chiamato però a ripetere il tiro. Marani salva ancora la porta e il risultato, rigore parato ma Folgore in 10. Il tempo di ripartire e al 39esimo è la squadra di casa ad andare in gol con un gran fendente di pedalino che spiazza la difesa. Sotto di un gol e con un uomo in meno il San Nicolò rientra in campo alla ricerca del pareggio. Primo tiro ma troppo alto, quello di Margarita. All'ottavo pericolosa la Folgore con Padovani ma colore attento intercetta la traiettoria parando a terra. All'undicesimo si rivede saracinesca Marani su un tiro di Cazolla che recupera palla su ribattuta e si ritrova tu per tu davanti al portiere di casa ma Marani sempre lì a dire no. Insiste in avanti il San Nicolò sfruttando qualche distrazione di troppo dei vere grenzi. Marani si conferma decisivo respingendo col piede un tiro di Pretara. Il raddoppio della Folgore arriva al diciassettesimo, in nove fuori un giocatore per infortunio. Nazziconi mette palla al centro e Padovani la insacca alle spalle di calore, il 2 a 0. Il neo entrato De Gidio spreca un'accasionissima per i biancazzurri al ventiquattresimo, il suo tiro sfiora il palo. Pedalino trascina la Folgore al ventinovesimo, dribblando tutti e infilando un assist perfetto al centro dell'area ospite. Nessuno arriva all'appuntamento però. Marani si conquista altri applausi quando respinge di piede il tiro di Donatangelo da un metro. Rovesciata di De Gidio al fotofinish, ma l'ottimo Marani c'è e nega il colla San Nicolò. Finisce 2 a 0 per i veregrenzi, i biancazzurri trovano a Montegrenaro la prima sconfitta dopo nove giornate utili. La Folgore festeggia a tre punti in vista del match al Riviera delle Palme contro la capolista Samb. Diciamo che la partita poteva anche mettersi male per noi perché c'è stato il rigore in 10. Però Marani, il portiere nostro, fa parte della squadra, ha fatto una bella parata. E come è il calcio loro hanno preso gol in contropiede se non mi sbaglio. Perciò io dico che alla fine la vittoria è meritata perché in 10 avevamo anche qualche problema di formazione perché c'erano anche qualche titolare fuori. Perciò i ragazzi hanno dato il massimo di quello che potevano dare e nonostante in 10 abbiamo fatto anche il secondo gol. Perciò dico che hanno fatto una prestazione egregia. San Nicolò ha giocato anche molto bene. Logicamente con un uomo in più noi siamo riusciti a fare anche il secondo gol e penso che questo i ragazzi se lo mergiano tutta questa vittoria. Mister, se vittorie consecutive e poi si viene qui a Montegrenaro, che è successo oggi? E' successo che innanzitutto abbiamo contato una buona squadra. Il campo non era adeguato alle nostre caratteristiche. Abbiamo fatto due ingenuità grandissime sui gol però credo che alla fine la squadra ha creato un'infinità di palle e gol. Abbiamo sbagliato un calcio di rigore. Sono quelle partite che secondo me sono segnate perché la potevamo riaprire, la potevamo pareggiare, potevamo andare in vantaggio tante volte. Abbiamo fatto tutto noi e poi loro sono stati bravi a capitalizzare credo le uniche occasioni di gol che hanno avuto. La partita era molto dura, sapevo che a livello fisico loro erano più forti di noi però credo che se andiamo in vantaggio sul calcio di rigore la partita cambia, può cambiare totalmente. Però ne vengo fuori come una partita dove dobbiamo essere un po' più cattivi, dobbiamo essere più pronti nei contrasti, nelle seconde palle e dobbiamo essere più cattivi sotto porta perché abbiamo avuto, credo, oltre alla bravura del loro portiere siamo stati anche un po' cattivi. La Samba si allontana un po'? La Samba si può allontanare, si può riavvicinare. Il campionato si decide da febbraio, marzo, aprile. Adesso i giochi sono aperti per tutti, i risultati sono sempre risultati strani e quindi noi non guardiamo la Samba, guardiamo a noi stessi e cercheremo di fare i più punti possibili per cercare di toglierci delle grosse soddisfazioni.